Benvenuti alle anticipazioni di Terra Mara per la settimana dal 2 al 6 ottobre. In queste emozionanti puntate, vedremo come Beiche si troverà coinvolta in una discussione accesa con Nazire, portando la tensione tra le due a livelli mai visti prima. Ma le sorprese non finiscono qui. Quando Fecheli finalmente raggiungerà il gruppo, Nazire svelerà un segreto sconvolgente. Beiche e Mujgan hanno preso una decisione che cambierà il corso degli eventi. Hanno intenzione di vendere tutte le proprietà di Yilmaz e fare ritorno a Istanbul. Questa notizia lascerà Fecheli completamente scioccato, incapace di credere a ciò che sta sentendo. In un momento di sconcerto, si rivolgerà a Mujgan cercando conferma. Beiche, con un atteggiamento arrogante e deciso, risponderà affermando che ciò che Nazire ha rivelato è la pura verità. Ora, tutto ciò che un tempo apparteneva a Yilmaz è nelle mani di Mujgan, e insieme desiderano tornare alla loro vita abituale lontano da Terramara. La notizia colpirà Fecheli in profondità, poiché si troverà a dover accettare la realtà di questa decisione. Ma Fecheli non si arrenderà facilmente. Avvicinandosi a Mujgan, cercherà di capire se è davvero d'accordo con la zia Beiche. Dopo un momento di esitazione, Mujgan risponderà confermando che, dopo la tragica morte di Yilmaz, non c'è più nulla che la trattiene a Terramara. La sua risposta segnerà un punto di svolta nella trama e getterà le basi per nuovi e intensi sviluppi nella storia. Non perdete le prossime puntate di Terramara per scoprire come questa inaspettata decisione influenzerà il destino dei personaggi. Fecheli, con il cuore lacerato dalle parole di Beiche, cerca di farle notare che Kukurova è la sua casa e che non può semplicemente portare via suo nipotechere Malì. Con voce carica di emozione, gli chiede come possa essere capace di separare un bambino da tutto ciò che conosce e ama. Ma Beiche, con il suo tono sprezzante e arrogante, risponde senza esitazione. Le sue parole taglienti penetrano nel cuore di Fecheli quando Beiche gli dice che Kere Malì non è suo nipote perché non ha il suo sangue e che Yilmaz non lo ha mai adottato legalmente. Secondo lei, questo significa che possono partire da Terramara quando lo desiderano, senza alcun vincolo legale o morale. La ferita nell'anima di Fecheli si approfondisce ulteriormente di fronte a questa cruda realtà. Profondamente ferito e con il cuore spezzato, Fecheli decide che non c'è più tempo da perdere. Riconosce che il legame con Kere Malì sta per essere spezzato e questo lo spinge a prendere una decisione immediata. Nonostante le suppliche di Mujgan di discutere la situazione in modo calmo e ragionato, Beiche impone la sua volontà con fermezza. Beiche ordina a Mujgan di preparare le valigie per la partenza immediata. La tensione nell'aria è palpabile mentre la famiglia si prepara a dire addio a Fecheli. Con un'ultima, superba espressione di gratitudine per l'ospitalità di Fecheli, Beiche si prepara a lasciare la casa. Mujgan, con lacrime negli occhi, si avvicina a Fecheli e gli porge Kere Malì per un addio commovente. Il loro legame indelebile reso ancor più doloroso dalla separazione imminente. Sarà un momento toccante e struggente, che segnerà una svolta importante nella trama di Terramara. Beiche ha fatto una scelta chiara e deciso di soggiornare in un lussuoso albergo. E questa decisione la riempie di gioia e soddisfazione. Mentre si gode i comfort dell'albergo costoso, il suo cuore si riempie di felicità per la nuova vita che sta per iniziare lontano da Kukurova. Tuttavia, questa decisione pesa profondamente su Mujgan, che si sente tormentata dal rimorso per aver portato via Kere Malì da Fecheli poco dopo aver perso suo figlio. Mujgan esprime il suo dispiacere a Beiche, sottolineando come la separazione da Kere Malì sia stata una decisione difficile e dolorosa per Fecheli. Tuttavia, Beiche risponde con una certa indifferenza, sottolineando la ricchezza di Fecheli e suggerendo che lui può visitarli quando lo desidera. Secondo Beiche, la loro nuova vita a Istanbul sarà piena di lusso e opulenza. Beiche, determinata a consolidare la sua nuova posizione, chiama il suo avvocato di fiducia. Kavit, egli affida il compito di gestire l'eredità di Yilmaz. Le sue istruzioni sono chiare. Vuole che Kavit si occupi di vendere le proprietà di Yilmaz e di acquistare una lussuosa casa a Istanbul. Beiche è entusiasta di realizzare i suoi desideri e sembra non avere alcuna remora nel farlo. Tuttavia, mentre Beiche è in estasi per la prospettiva di una vita lussuosa e agiata, il cuore di Mujgan è ancora intriso di tristezza. Riflette sul suo passato e sul suo rapporto con Fikret, riconoscendo che le scelte che hanno fatto in passato hanno avuto conseguenze profonde. La sua tristezza cresce mentre si rende conto di quanto le cose siano cambiate. Dopo alcuni giorni, Mujgan non può fare a meno di esprimere la sua preoccupazione a Beiche per le spese eccessive dell'albergo. Si lamenta del fatto che ordinare i pasti in camera sia costoso, ma Beiche risponde con orgoglio che ora è la vedova di Yilmaz, e quindi possono permettersi il lusso. La discrepanza tra le prospettive di Beiche e di Mujgan sulla loro nuova vita a Istanbul sarà una fonte continua di tensione e conflitto nella storia. La notizia che l'eredità di Yilmaz vale solo 80.000 lire scatena l'ira incontenibile di Beiche, che si scaglia contro l'avvocato con furia. Urla, lo incolpa di incompetenza e sospetta che Fecheli abbia manipolato gli atti di proprietà per danneggiarla. L'avvocato, visibilmente imperturbato, cerca di calmarla e spiegarle la situazione, ma Beiche, totalmente fuori di sé a causa della rabbia, insiste che nella regione di Cucurova tutto è possibile, e che ciò che le sta accadendo non può essere altro che una macchinazione contro di lei. L'avvocato cerca di risolvere la questione mostrando i documenti di vendita a Unkar Yaman per i 30 milioni di lire. Ma Beiche è troppo presa dall'ira per accettare facilmente questa spiegazione. Mujgan cerca di calmarla e cercare una soluzione pacifica, ma Beiche continua a lanciare accuse all'avvocato di incompetenza e cattiva gestione. La tensione tra di loro è palpabile. Frustrato dalla situazione e dalle accuse ingiuste, l'avvocato suggerisce a Beiche di cercare un altro avvocato se non è soddisfatta del suo lavoro. Quindi si allontana, lasciando le due donne a confrontarsi con la realtà sconcertante della loro situazione finanziaria. Nel frattempo, a Villa Yaman, ci sono coppie che si preparano a registrarsi per il matrimonio davanti a Zuleya. Tra di loro ci sono Rashid e Fadik, ma Rashid non riesce a trovare la sua carta d'identità, il che provoca un rimprovero da parte di Gaffur e una crescente preoccupazione da parte di Fadik. Zuleya suggerisce a Rashid di recarsi immediatamente al comune per richiedere una copia della sua carta d'identità, al fine di risolvere il problema in tempo per il matrimonio. Nel frattempo, Sanie, sempre attenta alle questioni familiari, pone a Fadik una domanda importante. È davvero sicura di voler sposare Rashid? La domanda mette Fadik in una posizione difficile, costringendola a riflettere sulle sue decisioni. Mentre Demir si prepara per andare al lavoro, Zuleya gli chiede se tornerà a casa quella sera. La risposta di Demir, un incerto forse, getta un'ombra di incertezza, e lui le dice di non aspettarlo. Questo momento fugace mette in evidenza la complessità dei sentimenti tra Demir e Zuleya. Nel frattempo, Mujgan chiama Fikret in cerca di aiuto e gli rivela la sconvolgente notizia sull'assenza dell'eredità di Yilmaz. Fikret è visibilmente sorpreso da questa rivelazione, e Mujgan suggerisce che i soldi delle vendite potrebbero essere finiti nelle mani di Zuleya. Tuttavia, Beice contraddice questa ipotesi, sostenendo che Zuleya non avrebbe bisogno di vivere con Demir se avesse a disposizione 30 milioni di lire. Fikret, mostrandosi disposto ad aiutare Mujgan, le offre di riportarla a casa, ma Mujgan rifiuta l'offerta. Si sente in imbarazzo all'idea di tornare da Fecheli con questa notizia sconvolgente, e la situazione diventa sempre più complessa e carica di tensione nella trama. Il ritorno di Sevda dal paese porta una notizia preoccupante che scuote Zuleya. Sevda racconta a Zuleya di aver sentito un uomo parlare apertamente di come stia coltivando i campi della tenuta degli Yaman abbandonati senza aver chiesto alcun permesso. La ragione, secondo quanto detto, è che la moglie di Demir, la stessa Zuleya, è incapace di occuparsi della tenuta e che, pertanto, non scoprirà mai la violazione. Questa notizia getta Zuleya nell'agitazione, poiché mette in discussione la sua autorità e la sua posizione all'interno della tenuta. Zuleya, decisa a risolvere la situazione immediatamente, decide di recarsi personalmente nei campi per affrontare l'uomo responsabile. Sevda le suggerisce di gestire la situazione da sola, poiché un coinvolgimento diretto di Demir potrebbe compromettere ulteriormente la sua autorità. Zuleya si reca nei campi e trova l'uomo in questione insieme ad altre persone. Con fermezza, Zuleya gli chiede cosa stia facendo senza il permesso della famiglia Yaman. L'uomo, tuttavia, risponde con arroganza e sfida apertamente l'autorità di Zuleya, rifiutandosi di rispondere alle sue domande. La tensione tra loro sale quando Zuleya gli ordina di prendere la sua famiglia e lasciare immediatamente i campi. Invece di obbedire, l'uomo deride Zuleya e la sfida, mettendo in dubbio la sua capacità di essere la padrona di quelle terre. Questo confronto evidenzia la sfida che Zuleya dovrà affrontare per preservare la sua autorità e il controllo sulla tenuta degli Yaman. Nonostante le parole di Zuleya, l'uomo continua a resistere e si rifiuta di lasciare i campi degli Yaman. In quel momento, sopraggiunge Sevda, decisa e armata di un fucile, e spara alcuni colpi in aria per mettere in fuga l'uomo e gli altri che sono con lui. La sua azione risoluta e determinata minaccia l'uomo e lo avverte che Zuleya è la legittima padrona della tenuta, e che devono rispettarla e abbandonare immediatamente i campi. L'intervento di Sevda ha successo nel costringere tutti a ritirarsi. Dopo che la situazione si è calmata e tutti se ne sono andati, Sevda rivolge parole di elogio a Zuleya. Le dice che è la vera padrona della tenuta e che ha dimostrato di avere il coraggio necessario per farsi rispettare e proteggere la loro terra. Questo momento rafforza il legame tra le due donne e rafforza la determinazione di Zuleya nel difendere la sua eredità. Nel frattempo, Fikret ha una conversazione con Fekeli e gli rivela che Mujgan ha scoperto che Yilmaz ha venduto tutte le sue proprietà tranne la piccola villa. Fekeli è sorpreso da questa notizia e ammette di non essere a conoscenza di questa situazione. Fikret suggerisce che Mujgan sospetta che i soldi potrebbero essere finiti nelle mani di Zuleya. Ma Fikret nutre dei dubbi in merito. Entrambi si trovano a interrogarsi su dove possono essere finiti tutti quei soldi. Una questione che rimarrà irrisolta e che aggiungerà ulteriore mistero alla trama. Fikret continua a raccontare a Fekeli che Mujgan si vergogna profondamente di vivere in un hotel e che le chiede di perdonarla. Ritenendo ingiusto che il piccolo Kerem li cresca in un ambiente del genere. Fekeli risponde con un profondo senso di giustizia, dichiarando che non vuole mai più vedere Beice, ma che Yilmaz gli ha affidato suo figlio. Quindi è suo dovere riportare a casa Mujgan e il bambino. Fekeli e Fikret si dirigono verso Zuleya per discutere della vendita delle proprietà di Yilmaz e dei soldi scomparsi. Zuleya ammette che sapeva della vendita delle proprietà a Onkar, ma spiega che erano così felici all'epoca che non aveva posto domande. Fekeli ribadisce che quei soldi appartengono solo a Kerem Ali, ma Zuleya difende la sua posizione, sostenendo che è giusto che tutto ciò che era di Yilmaz ora appartenga al loro figlio. Sottolinea anche il fatto che Adnan ha dimostrato di amare Kerem Ali come un figlio e provvede a lui con affetto. Successivamente, Fekeli raggiunge Mujgan nell'hotel, ma Beice cerca di intervenire per proteggere sua nipote. Tuttavia, Fekeli si rivolge direttamente a Mujgan, esprimendo il suo amore per lei sin dal momento in cui l'ha conosciuta. Lodando la sua dolcezza e gentilezza, Fekeli cerca di convincere Mujgan a tornare a casa con lui e a lasciare Beice e il suo comportamento ostile. Nonostante i tentativi di Beice di interferire nuovamente, Fekeli la zittisce in modo deciso, dimostrando la sua determinazione a riportare Mujgan nella sua vita. La situazione è carica di tensione e conflitto, ma le emozioni sono sincere e profonde, e la trama promette di evolversi in modi sorprendenti. Mujgan ascolta con il cuore pesante le sincere parole di Fekeli e, con gli occhi lucidi di rimorso, esprime il suo rammarico. Chiede perdono e sottolinea che per lei Fekeli sarà sempre come un padre. Fekeli, comprensivo ma ancorato alla sofferenza che questa situazione gli ha causato, accoglie le sue scuse e le assicura che il dolore di tutto ciò continuerà a fargli male. La invita a rimanere con lui, ribadendo che quella sarà sempre la sua casa, nonostante le affermazioni di Beice, che aveva urlato che Kekeli non è il suo vero nipote. Tuttavia, Fekeli impone una condizione, vuole che Mujgan smetta di influenzare negativamente sua nipote e che si comporti in modo più adeguato. Beice accetta le condizioni, dimostrando almeno una volontà di collaborare. Nel frattempo, mentre Demir sta coccolando Leila, esprime i suoi desideri per il futuro dei suoi figli. Parla di mandarli nelle migliori scuole e di farli studiare in Europa. Zuleya, curiosa di sapere cosa desidererebbe che Leila studiasse, pone una domanda chiave. Demir risponde che vorrebbe che lei guidasse l'azienda insieme a suo fratello. Questo momento di intimità e dialogo rivela le ambizioni di Demir per il futuro dei suoi figli e l'importanza che attribuisce all'azienda di famiglia. Demir, in un momento di intimità con Zuleya, le chiede cosa desidera per il loro futuro. La risposta di Zuleya è semplice ma significativa, vorrebbe che fossero felici. Questa dichiarazione riflette il desiderio di Zuleya di una vita serena e soddisfacente, nonostante le sfide che devono affrontare. Una volta tornata a casa, Fecheli accoglie affettuosamente Kerem Ali dalle braccia di Mujgan e instaura un legame con il bambino, iniziando a parlargli con dolcezza. Fecheli sottolinea anche la necessità che la zia Beiche smetta di condizionare la vita di Mujgan e cambi il suo atteggiamento. Beiche promette di farlo, accettando la richiesta di Fecheli. Nel frattempo, Fikret è a cena con un cugino e inizia a discutere della sua relazione con Umit. Il cugino gli chiede se questa relazione è solo un divertimento o se sta pensando al matrimonio. Fikret nega l'idea del matrimonio, spiegando che Umit è un medico e che potrebbero esserci differenze di stile di vita tra di loro. Tuttavia, il cugino lo zittisce, sottolineando che persino Mujgan ha sposato un meccanico, suggerendo che l'amore va al di là delle differenze sociali. Demir, nel frattempo, è pronto per una cena con Zuleya e Sevda, ma riceve una chiamata da un amico e decide di uscire all'ultimo momento. Sevda nota l'atteggiamento strano di Zuleya e le chiede se sia preoccupata, ma Zuleya nega, nascondendo forse le sue vere emozioni. Nel frattempo, Fekeli condivide con Mujgan la sua opinione su Beice. Le spiega che sua zia sembra non pensare a lei, ma solo al proprio benessere. Fekeli incoraggia Mujgan a non farsi influenzare dalle azioni di Beice e a prendere decisioni che siano nel migliore interesse di lei e di Kerem Ali. Discutono anche della situazione economica e delle azioni di Yilmaz. Fekeli rassicura Mujgan che tutto ciò che ha è destinato al loro figlio, Kerem Ali, sottolineando il suo impegno a proteggere l'eredità del padre. Mujgan, profondamente turbata dalla situazione e dai pensieri su Yilmaz, esce nel giardino per riflettere. Qui viene raggiunta da Fikret, che la vede triste e sconvolta. Mujgan confida i suoi pensieri su Yilmaz, evidenziando il fatto che suo marito ha lasciato solo una modesta casa al loro figlio. Fikret, colto dall'empatia, la abbraccia per confortarla e asciuga le sue lacrime. Tuttavia, in un momento di impulsività, Fikret la bacia improvvisamente, lasciando Mujgan profondamente confusa. Poi si allontana da lei, scusandosi per il gesto inaspettato, lasciando Mujgan con un misto di emozioni e domande senza risposta. Successivamente, Fikret incontra Umit nel suo studio all'ospedale e le presenta un agente immobiliare di Kukurova che la aiuterà a trovare una casa. Mentre sta congedando Umit nel corridoio, Mujgan appare all'improvviso e si unisce alla conversazione, chiedendo se i due si conoscano. Questo incontro improvviso aggiunge un elemento di sorpresa e complicazione alle dinamiche tra i personaggi, e le relazioni si fanno più intricate. Fikret spiega che ha conosciuto Umit in Germania, dove lei era sua cliente. Nel frattempo, Beice va a fare visita a Mujgan in ospedale e solleva il tema dei soldi di Yilmaz, sottolineando che nessuno sa dove siano finiti. Mujgan rivela che Zuleya li ha, e Beice insiste sul fatto che quei soldi dovrebbero appartenere a Kerem Ali, il figlio di Yilmaz. Mentre Zuleya sta condividendo una tazza di tè con Sevday Sermin, arriva Mujgan che chiede di parlare privatamente con Zuleya. Le due donne si dirigono nello studio di Demir, con Sermin che le segue silenziosamente, posizionandosi dietro un muro per ascoltare la conversazione. La dottoressa Mujgan rivela a Zuleya una notizia scioccante. Yilmaz, prima di morire, ha ceduto tutte le sue proprietà per 30 milioni di lire turche. Ma i fondi sono misteriosamente scomparsi. Mujgan sottolinea con forza che l'eredità di Yilmaz spetta unicamente a Kerem Ali e le chiede a Zuleya di restituire ciò che spetta al bambino. Zuleya, con sincerità, risponde affermando che non dispone di quei fondi e che se li avesse, li avrebbe già restituiti. Le accuse di Mujgan si intensificano quando suggerisce che Zuleya potrebbe averli sottratti. Zuleya, visibilmente irritata dalle insinuazioni, mette in guardia Mujgan dalle sue parole. La situazione diventa ancora più tesa quando Mujgan sfida Zuleya, addirittura arrivando a provocarla a spararle. Zuleya ribatte, affermando che non è come lei, e offre persino di darle i soldi personalmente se ne ha bisogno. Tuttavia, Mujgan avverte Zuleya che se ha effettivamente preso i soldi che appartengono a suo figlio, sarà costretta a restituirli. La discussione si fa sempre più accesa. E Zuleya sembra perdere la pazienza, concludendo la conversazione con un congedo deciso. La tensione tra le due donne è palpabile, e la questione dei soldi di Yilmaz rimane senza soluzione. Nel frattempo, mentre Demir è nel suo ufficio, l'agente immobiliare Hassan lo raggiunge e gli propone di affittare uno dei suoi appartamenti a Umit, il nuovo primario dell'ospedale. Questa proposta potrebbe portare a nuovi sviluppi nella trama e nell'intreccio tra i personaggi. Demir risponde all'agente immobiliare Hassan, affermando che gli appartamenti sono troppo piccoli per Umit. Invece, suggerisce di concederle una delle sue ville con piscina, dimostrando la sua generosità e disponibilità a fornire una soluzione più adatta alle esigenze di Umit. Nel frattempo, Beyice partecipa a una riunione del comitato e Sermin le chiede quando partirà per Istanbul. Beyice risponde che stanno aspettando l'eredità di Yilmaz e menziona una grande casa alla moda con giardino che possiede lì. Tuttavia, Sermin, che conosce la verità sulla situazione finanziaria di Beyice, ironizza sulle spese che dovrà affrontare e sul fatto che Beyice stia cercando di creare un'immagine di ricchezza. Fuson e le altre donne suggeriscono che Beyice riceverà una grande eredità, ma Sermin decide di rivelare la verità alle amiche. Sermin svela che in realtà Beyice avrà solo una piccola villa nel giardino di Demire e la consiglia di non credere a ciò che dice, poiché è finanziariamente dipendente da Fechieli e deve rimanere nel retrogrado paese con loro. Questa rivelazione fa sì che tutte le altre donne presenti alla riunione si prendano gioco di Beyice, che, umiliata, decide di andarsene. La situazione mette in luce la complessa rete di relazioni e intrighi nella comunità, con alcuni personaggi che cercano di mantenere un'immagine di status sociale e ricchezza, mentre altri mettono in discussione queste affermazioni. L'agente immobiliare mostra a Umit la villa di Demire, spiegando che Demire la considera come suo ospite, ma se non le piace potrebbero cercare altro. Umit, tuttavia, dimostra di gradire molto la villa. Dopo aver esaminato la residenza, Umit chiama Demire per esprimere la sua gratitudine per averle trovato una casa adatta. Demire risponde con modestia, affermando che era suo dovere, specialmente considerando il ruolo che svolge per gli abitanti di Kukurova. Nel frattempo, è sera, e Sanie e Gaffur stanno preparando la piccola billetta in cui Yilmaz aveva deciso che Gulten e Cetin dovessero vivere dopo il matrimonio. Gaffur nota la nuova e bellissima biancheria e chiede da dove provenga. Sanie spiega che fa parte della dote che ha preparato per Gulten fin da quando era bambina. Cetin e Gulten si uniscono alla conversazione, esprimendo la loro gratitudine a Sanie. Lei non ha mai fatti sentire loro la mancanza di una madre e ha dato loro tutto il suo amore e supporto nel corso degli anni. La scena è toccante e mette in luce il legame affettuoso tra questi membri della famiglia e la gratitudine che provano l'uno verso l'altro. Contemporaneamente, Zuleya e Sevda stanno aiutando Fadik a preparare la sua camera da sposa. Ma Fadik è triste perché la carta d'identità di Rashid non è ancora pronta. E questo ritardo sta impedendo loro di registrare il matrimonio. Zuleya suggerisce che potrebbero sposarsi comunque e registrare il matrimonio in seguito una volta che la carta d'identità di Rashid sarà disponibile. Tuttavia, le fa notare che finché il matrimonio non è registrato, Rashid non potrà stare nella sua camera da sposa. Fadik, rassicurata dall'idea, abbraccia Zuleya e le rivolge un sentito ringraziamento. Nel frattempo, è sera, e Zuleya nota che Demir sta uscendo di nuovo per la serata. Gli dice che vuole parlargli ma che lo farà in un altro momento. Demir risponde in modo evasivo, dicendo che sarà tardi e consiglia a Zuleya di non aspettarlo, deludendo Zuleya e lasciandola con sentimenti di incertezza riguardo al loro rapporto. Umit mostra la villa a Fikret, che ammira la sua bellezza e nota che deve aver fatto un'ottima impressione su Demir. Fikret ammette che era l'obiettivo del loro piano, ma elogia Umit per la rapidità con cui ha ottenuto risultati positivi. Poi suggerisce a Umit che Demir sta per divorziare e le dice di non sentirsi in colpa se si avvicina a lui, ribadendo che il loro piano deve continuare. Umit mette in guardia Fikret, sottolineando il pericolo di innamorarsi di Demir, ma Fikret le risponde con una sfida, suggerendo che anche lei potrebbe innamorarsi di un'altra persona. Mentre stanno discutendo, arriva Demir con una scatola regalo in mano. Dopo aver bussato alla porta, Fikret si nasconde, mentre Umit apre la porta e fa entrare Demir. Quest'ultimo si accomoda in salotto, mentre Fikret osserva di nascosto da dietro una porta. Umit accoglie Demir nella villa, mentre Fikret, con una pistola in mano, li osserva soddisfatta attraverso una fessura della porta. Durante l'incontro, Demir complimenta Umit per aver ottenuto l'incarico di primario così giovane, e lei risponde affermando il suo impegno nell'aiutare la gente di Kukurova. Successivamente, i due brindano insieme. Nel frattempo, durante la colazione a villa Fekeli, Mujgan chiede a Fikret da quanto tempo conosce Umit. Fikret risponde che la conosce da un anno e mezzo e spiega a Fekeli che Umit era sua cliente in Germania e che l'aveva aiutato nel lavoro portandogli molti clienti. Mujgan chiede a Fikret se sapeva che Umit sarebbe venuta a lavorare a Kukurova come primario, ma Fikret nega di averne avuto conoscenza in anticipo. Beiche fa un commento su questa interessante coincidenza, e Fikret domanda se Umit sia venuta a Kukurova per lui. Fikret nega questa ipotesi e sottolinea che nessuno dei due è sposato. Successivamente, Fikret decide di non accompagnare Fekeli in azienda con una scusa e si dirige invece verso la tomba di Adnan. Qui, guarda la tomba con disprezzo e rabbia. Poi colpisce violentemente la lastra di marmo che delimita la tomba con i pugni. Durante questo momento di sconforto e rabbia, un uomo osserva la scena da lontano. L'uomo che ha visto Fikret si avvicina a Fekeli e gli riferisce che la pietra tombale di Adnan Yaman è stata distrutta da Fikret. L'uomo ha dichiarato di aver visto Fikret prendere una grande pietra e rompere la lapide con rabbia e violenza. Aggiunge che ha anche visto Fikret la mattina seguente tornare sulla tomba di Adnan, guardandola con rabbia e colpendola nuovamente. Questo evento lascia Fekeli e gli altri con una serie di domande e preoccupazioni sulla condizione mentale di Fikret e sul motivo della sua azione distruttiva. Fekeli rimane sconcertato dalla notizia dell'azione distruttiva di Fikret sulla tomba di Adnan Yaman e si domanda quale possa essere il problema di Fikret con Adnan. Nel frattempo, è il giorno dei matrimoni collettivi e Villa Yaman è addobbata a festa. Zuleya fa da padrona di casa e accoglie Fekeli, Chettin e la sua famiglia. Mentre Fekeli guarda in direzione della finestra di Unkar, è evidente che ci sono pensieri e tensioni irrisolti nell'aria. All'interno della villa, Gulten è pronta per il suo matrimonio e indossa l'abito da sposa. Sanie l'aiuta a prepararsi, esprimendo la sua gioia e ringraziando Dio per averla vista sposarsi. Gulten ringrazia anche Sanie per tutto ciò che ha fatto per lei fin dall'infanzia. Quando era senza genitori. Successivamente, Gulten abbraccia Zuleya e le augura molta felicità. Infine, Gaffur si unisce a loro, visibilmente commosso, e fa i complimenti a Gulten quando indossa l'abito da sposa. Chettin aspetta Gulten insieme a Fekeli e la sua famiglia. Un gruppo di musicisti è presente per animare la festa, e Chettin è visibilmente emozionato all'idea del suo matrimonio. Anche Fikret si unisce a loro, inventando una scusa per il suo ritardo. L'atmosfera è carica di emozioni aspettative mentre i preparativi per i matrimoni collettivi continuano. Finalmente Gulten esce dalla casa, bellissima nel suo abito bianco e con il velo sul viso, ed è accolta con grandi festeggiamenti, musica e balli. L'atmosfera è festosa e tutti sembrano felici per lei. Tuttavia, Zuleya viene richiamata nella villa e scopre che Rashid non si è presentato al matrimonio e non è da nessuna parte. Sevda suggerisce che forse lui non vuole sposarsi, e Zuleya rimprovera Fadik per non averlo detto prima, dato che la ragazza lo sta aspettando vestita da sposa. Fadik è alla finestra e prega che Rashid arrivi, mentre Zuleya si avvicina e cerca di consolarla. Zuleya le dice che forse Rashid non era la persona giusta per lei e che troverà qualcuno di migliore. Nonostante l'assenza di Rashid, l'atmosfera festosa continua all'esterno, ma dentro la villa c'è preoccupazione e incertezza riguardo al destino di Fadik e al motivo dell'assenza di Rashid. Fadik promette di calmarsi e si unisce alla festa, chiedendo a Zuleya di non dire nulla a Gulten per non rovinarle il giorno. Nonostante la preoccupazione per l'assenza di Rashid, l'atmosfera festosa continua all'esterno mentre tutti gli invitati sono seduti ai tavoli. Fekeli è accanto a Demir e lo elogia per il fatto che Zuleya stia proteggendo la memoria di un car meglio di tutti loro. Demir risponde che Zuleya sta preservando la memoria di sua madre meglio di chiunque altro. Con questo, si conclude l'anticipazione e vi ringraziamo per essere stati con noi. Se avete apprezzato le anticipazioni, non esitate a farcelo sapere. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti e come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Grazie. A presto.